Poi quando i giovani ritrovano questo contatto come è successo alla fine della settimana scorsa a Pisa, è stato un po' il tema di cui si è discusso per tutta la settimana, succede quel che succede. Tu che opinione ti sei fatta? Ma è brutto, è un bruttissimo segnale il fatto che i cambi di governo in Italia sono stati sempre segnati, i campi di governo a destra, così come successe a Genova, che si era appena insediato al governo di Berlusconi Fini, ci fu una sensazione che volevano dare un segnale, tanto è vero che Fini si ricordano le varie caserme a incontrare. Ecco, è brutta questa sensazione che la polizia non sia, la polizia io sono figlio di un carabiniere e quindi non ho un rapporto stigmatizzante e un pregiudizio per forza ferocemente negativo, anzi conosco anche il lato della fatica del lavoro dell'uomo delle forze dell'ordine, avendolo visto in casa. Quello che non deve essere assolutamente ammesso è che la polizia diventa uno strumento del governo a seconda del cambio di colore. Io ho avuto la percezione che quello che è successo a Pisa e che sta succedendo con altre iniziative di questo governo, per esempio l'inasprire le pene su temi come l'occupazione del suolo, per poter mandare in galera i ragazzi. Tu immagini che ci possa essere stato proprio verbalmente, spessamente, oppure il clima, l'umore? Senti che hanno voluto dare un segnale di cambio di clima e questo non va bene, perché la polizia deve stare al di sopra delle parti. Quindi qualcuno potrebbe sentirsi, qualcuno in divisa, più autorizzato a comportare...